Io sto lavorando a una tavola tratta dal terzo canto del Paradiso in cui Dante e Beatrice incontrano Biccarda Donati e c'è un rimando grafico tra la circolarità dei cieli del Paradiso e la popola del Pantheon e anche un po' un rimando simbolico in quanto il Pantheon è il Tempio di tutte le divinità. Adesso finisco di inchiostrare e poi posso colorare in maniera fotografica tutto.